Molto lieto, sono Amedeo Iossa, il figlio di Luigi, sono il nuovo maestro. Vi do tre tracce, la prima è questa, parlate degli animali che meglio conoscete, la seconda, raccontate ciò che vedete dalla finestra della scuola, la terza, ve la inventate voi. E tu Olmitella, mi sai dire un nome di persona che inizia con la lettera B? Questo è il mio benvenuto. Ma no, si dice benvenuto. Buongiorno signor Maier, queste ve le vanno a mio padre. Voglio dire che ieri non mi sono fatti comodi. La prossima volta tu sai dove è il tuo posto? In ginocchio con i ceci. Prego insegnante Iossa, si accomodi. Direttore, non si preoccupi. Beh veramente direttore, non abbiamo un'altra serie. Ma com'è possibile? Non avete mai fatto una richiesta? Sì, veramente ne ho fatte tante, ma nessuno mai ci ha dato ascolto. Va bene, me ne occuperò io. Ci parlerò io col sindaco in prima persona. Ragazzi, vi sapete dire che albero è questo? Sì, ma c'è questo. Ma che dite? Che avete studiato? Ah, vediamo, cosa vedi verso il nord? Sì, sì, la campagna di Rocchina. Ma quale campagna di Rocchina? Non vedete il castello? Quello è delicato, si trova a nord. Sì, ma tanto è una maestropietta. E allora non ci hanno le galline. Possibile che sapete solo questo? Quello è un castello normanno, costruito tanti secoli fa. Vi hanno dimorato i piccolomini, i bartirotti, i mirobaumi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.